Scovare gli asintomatici sembra essere questo ormai l'imperativo che potrebbe traghettare il Paese nella fase 2 e gestire l'emergenza coronavirus. Intanto sul territorio il professor Minelli, alla guida dell'Associazione Tutti Uniti per la Vita, lancia l'appello alle istituzioni e agli imprenditori affinché sostengano il lavoro dell'Associazione diventata emblema a livello nazionale di un impegno pionieristico. C'è un allargamento della richiesta, nel senso che la richiesta è partita da comuni salentini, si è allargata ad RSA salentine poi sono arrivate RSA che risiedono e sono ubicate anche in altre province della regione Puglia adesso stanno arrivando anche le richieste di supporto per kit diagnostici da parte di alcuni comuni della Basilicata. D'altro canto i 400.000 kit messi a disposizione del governo non possono evidentemente essere tali da poter in qualche modo soddisfare tutte quelle che sono le esigenze del territorio. Se potesse fare un appello a chi si rivolgerebbe? Mi rivolgerei a tutti, mi rivolgerei intanto a quelle persone che possono avere maggiore facoltà di supportare non soltanto alle persone, anche alle imprese, anche alle aziende, anche a soggetti politici, perché no? Ad amministratori, eventualmente a soggetti dello spettacolo. Mi rivolgerei a tutti perché il problema è di tutti. Noi, lo dico qui chiaramente, noi non somministriamo kit, noi non vendiamo kit, non siamo autorizzati a farlo. Di conseguenza ci disponiamo appunto a distribuirlo a quelle realtà che invece possono farlo. E' chiaro che ora abbiamo bisogno davvero del supporto di tutti e quando li dico, dico di tutti, dico davvero di tutti. Dal singolo cittadino, dalla singola famiglia, alla persona che più di altre, voglio dire, o all'entità che più di altre può davvero fornire un supporto per una causa comune.